8.06 Direzione casa di Hyde, mi muovo perché sono già in ritardo che verso le 10 devo essere da lui Quindi, beh, stai chiusa la porta giustamente Ok, non piove dai Ok raga, ora salto temporale, ci vediamo direttamente da Hyde, se no faccio tardi Scusate il salto temporale ma ci siamo catapultati direttamente a casa di Jack Beh dai, c'è questo, è un bel vlog, mi sembra Sì, è privo di salti temporali C'è anche il Piti Sì, con il suo dito Ok, guarda, che ricorda te Questi fa magia, Jack Vai Piti, cazzo al gioco, ok, almeno mi dà un po' di contenuto E mescola Mescolo? Sì, questo gioco antimago per sbardere Sì Vuoi mescolare anche tu, Hyde Eh, faccio un po' fatica, mi fido di te Allora, facciamo così A chi mi dice stop, tu che sei in camera, così, virtuale, dimmi stop quando vuoi Stop Ok, guarda e ricorda Yes Dai Ci siamo Attenzione Mescola Eh dai, smettila Ma devi squadrarmi prima, è bastardo Adesso squadri, mescoli anche Ok Mescolo? Mescola Stai male Ok, fatto Mi servirà solo un indizio Aspetta, prima guarda Perché sono deciso tra due carte Non voglio vedere, non voglio spogliarmi Sono indeciso tra questa e il camillone Forse ci sono, no ci sono, ci sono È una carta nera? È una carta nera, sì È una carta nera, sicuro? Il quattro di pick Bastardo Quella, quella Bellissimo Figo Mettetevi tipo In posa Tipo in posa, un po' Prima giro vicenda Le freddure è off-cam, non le fai? Allora, questa è solo per voi, raga È bellissima Sapete qual è, come si chiama il più grande gommista di tutti i tempi? Tony Cooper Cooper Tony È festa, casa nobile Dove sei qua? Merendina Merendina Speriamo così, non si capisce il mio tempo Perché si fa la ripresa Se mai Se mai Bevigli in faccia Guarda che tazza Guarda la tazza E poi aspetta che gli bevo in faccia Fa 6.000 gradi Vuoi fare un b-roll? Allora, raga, pittici cazzon gioco Fate sapere nei commenti se lo capite Vai Eeeh, dimmi stop quando vuoi Stop Ok, guardala, ricordala Sì Ok, ciao Ce l'ho, ce l'ho Ok, guarda, lasciala pure Da qualche parte nel mazzo Dove vuoi? La metto qua Ok Come vedi non c'è nessuna carta Girata Di faccia Yes Ok, quindi molto chiaramente Inseriamo dentro Squadro tutto Sì Ok, per la prima volta che carta era la tua Era 9 di cuori 9 di cuori Guarda 9 di cuori Bomba Aspetta Fate sapere se l'avete capito E anche questa volta riprendo il vlog dopo Dopo orette Ma ci fai un b-roll? Ti dispiace se lascia il mio intimo sul pianoforte? Eh, ti spacco le mani È nuovo, è pulito È andato a b-roll Mamma mia Ma che b-roll è? B-rollino su Hyde È un b-rollino È un b-rollino È un b-rollino qua nel collo Cioè Sbarte che sta settando il suo gioco E non combina L'ha inventato lui E sta dilirando È un'ora che sta andando avanti così la situazione Questo è un documentario su Sbarte E poi mi dà la colpa C'era un b-rollino Mi dà la colpa No, raga Ho scoperto il falla, falla Ah, ok, ci sei Ho scoperto la falla Zecco, ho scoperto la falla Come ci si sente ad aver inventato un gioco di magia? Si sente di merda Raga, siamo in stream Vi dico subito a se Salutate raga, salutate Questa è nel video Bella raga Bella chat Questi si stanno ammazzando Era Jack Cosa fa Jack? Eh, aspetta un attimo Che qua è tutto un casino È tutto precario, tutto precario Ciao YouTube Abbiamo appena finito di registrare un Magia Cinesi Guardate qua Che casino Fagli vedere la più bella È il libro E non si colora Allora, Magia Cinesi Aiden è una bomba da farci One, two, one, two, prova Stavo provando un ultimo microfono Com'è, Funzia? Una mezza con un microfono Ti devo fare, bro? Non so Jack, hai un vaso? Sai perché? Perché ora sa, sa, sa La cosa più trash In partire del vlog Se ti dico quanto l'ho pagata Sta roba mi spara Mi fai un gioco, Aide? Si, allora Sto Sto impugnando un masto di carta normalmente Con le mie normali dita Aide, mi si è bruciata la lampadina Cioè, non si accende più Aspetta, si provo io Aspetta, guarda Aspetta, aspetta Guarda Figlissimo Anche due noci Due noci Due noci? Ma sbattiamoci due Due cipolline No, a me no No, a te io ti metto anche due cipolline Ma qui c'è un monclerino Ma c'è un monclerino? Andiamo a sinistra Il monclerino Qua c'è un colmarino Trovatelo sui piazzi Qua c'è un colmarino? Raga, dovete sapere che il nuovo modo di parlare è Insalatino Pollettino Si spiammattina Collettino Si spiammattina Quanto è bruma Raga, pistacchiett... Raga, pistacchiett... Come cazzo si dice? Pistacchiettino Pischiacchiettino? Come si dice? Pistacchiettino? Pistacchiettino Non sbaglio Sono non salato Ti mangi un pistacchiettino? Sono non salato Inessibili come l'acqua È come un culo senza buco Rai, arrivo a censurare tutto Ma cosa ci fai con questo vlog? Questo è fighissimo È atomico Che figata Che figo Che figo Questa è venuta da dio Backstage Che parassita Questa mamma sta per registrare un video per la Rai E io sono qua con questa faccia Prende il contenuto È un'altra cosa Inizio, è partito Guarda quanto è contento Sono felicissimo di fare questo video Dai, anche i capelli I capelli da panico Allora, già qui ti ho settato tutto bene Sì, grazie La luce te l'ho messa così non ti flickerà dietro Grazie bro Quanto che stai? La mia prima magia è stata Questa Solo Fatta molto Molto peggio E sono il ladro di contenuti io Ti uso come contenuto Per allungare questo vlog Deve arrivare a otto minuti Sì, vabbè Fai pure Sì, scusa Stai giusto resistendo un video, no? Raga Mi sono quasi sfondato un ginocchio E ci serviva del ghiaccio E c'era solo questo Il spinazio a cubetti È l'unica roba che avevo freddo Vabbè dai Fa il suo lavoro Sono partito però io Ci sei? Grazie a Jack Abbiamo intrapreso le giornate da boomer Dei giochi di budget da boomer Abbiamo un asso di quadri E due assi neri, guarda Prendo quello di quadri Lo lascio qui I due assi neri Visibilmente qua Dov'è quello di quadri? Eh, qui bro Qui Dici qua Sì Questa è uno schiocco Guarda la boomerata Arriva direttamente in mezzo al master Ah È lì? Perché qua c'è Quello di quadri Figo in realtà Figo Da boomer ma figo Tanto c'era una carta Disegnata qua dietro Sì, anche Cazzo Connexion Ah Cos'è connection? Sì Cos'è connection? Eh, non so Cosa uscirà prima Questo connection Quindi Connection è l'effetto in vendita Che trovate qua sotto Connexion Cina Sbambino Filmino Dove sei qua? Jack Se non ci dai un po' di contenuto A questo vlog Non so se riesco a caricarlo Cosa vuoi che ti faccia? Quella è una bella massa da boomerata Vorrei qualcosina Una boomerata Una boomerata? Una boomerata Adesso ti faccio un dynamo shuffle Un dynamino? Era lì Beh, questo è figo in realtà Però, sì È una boomeratina Mescolo le carte Sì Ok, e solo col peso Beh, oddio col peso Adesso vediamo Proverò a capire che carta è la tua Dimmi stop Stop Ti piace? Sì Ok, si mescola in mezzo Si mescola Mi piace proprio le mie carte Ok Bella carta, ti piace? Sì Ok Ora Io taglio le carte a metà E cerco di capire in che metà si trova Se tra questa o quell'altra Sì Ok, vado Col peso Ah, così La bilanza Ok Secondo me non è tra queste Ok Ma è tra queste Ancora una volta apro le carte circa a metà Cerco di capire se si trova in questa metà e in questa metà Secondo me non è tra queste Mescolo le carte Ok Secondo me la tua carta è tra queste Ok E potrebbe, secondo me, non è il nove Non è l'otto Non è il cinque Non è... non è il... non è l'otto Non è l'asso Non è neanche... né il due né il quattro Eh, si stringe qua Non è neanche il Jack Non è neanche l'asso Ci siamo lì Non è neanche il due Eh, hai svegliato Era la donna di quadri? No, era il due Era il due? Ah, meno male Hai svegliato Bastardo Bellissimo Jack, noi andiamo Ciao Ciao, grazie per la casa Ciao Grazie Ho rubato contenuto Fatto bene A parte gli scherzi Grazie per aver visto questo video Beh, bestie, mi hai sovraesposto A parte gli scherzi Grazie per aver visto questo video Senza alcun senso Grazie Jack Alla prossima Ciao raga Saluta Aide Ciao raga